Arrivano i rinforzi per la giustizia calabrese, sono 31, i magistrati che dopo aver terminato il loro tirocinio vengono adesso affidati ai loro primi incarichi, poco meno di 200 toghe, 198 per esattezza, che la terza commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto idogni per assumere le funzioni giudizionali in tutta Italia. Un'avvocata di ossigeno per gli uffici giudiziari alle prese con ataviche scoperture di organico, il caso più noto è quello di Vibo Valencia, gravato inoltre dalla presenza dei maxiprocessi ai clan del territorio, una situazione che aveva portato a dicembre l'ordine degli avvocati a chiedere un'audizione al guardasigilli Nordio per segnalare la grave situazione in cui versa la giustizia civile nel Tribunale, dovute innanzitutto e principalmente all'esiguo numero di magistrati e personale amministrativo in servizio, nonché ai frequenti trasferimenti dei giudici in altre sedi e all'applicazione di alcuni magistrati al settore penale per la composizione dei collegi giudicanti nei maxiprocessi di criminalità organizzata. Ora arriva una prima risposta, nei prossimi giorni prenderanno servizio a Vibo quattro nuovi giudici e un sostituto procuratore, altri quattro giudici rafforzeranno l'organico del Tribunale di Crotone, mentre la Procura potrà contare su due nuovi PM. Anche all'Ocri andranno quattro giudici e un solo pubblico ministero, due giudici e due sostituti procuratori per Paola, rinforzi anche a Palmi con un giudice e due PM. A Castrovillari sono in arrivo due PM, a Reggio Calabria sono stati assegnati due giudici, uno andrà alla sorveglianza e un PM, un solo giudice a Catanzaro e un solo sostituto procuratore a Catanzaro.